La macchina non ha che i denti dell'ingranaggio e soprattutto è lieta di sorprendere questi attimi deliziosi di dolce intimità. Altri cibi e questi non da buttarsi tra le sbarre ma piuttosto da servirsi coi guanti. Polarca, stella polare, compie i suoi due anni e il guardiano ha pensato di riprodurre con la panna montata un candido frammento di banchisa. Veramente Polarca è nata qui e molti ricordano quando questo stesso guardiano le portò il primo biberon. Come tutti i bambini guarderà con sospetto il primo dolce ma le basterà un boccone per prendere il vizio. Ecco noi non avremmo tolto le candele. Lei avrebbe gustato lo squisito contorno e l'anno prossimo ne pretenderebbe tre.